Patente da privatista o tramite autoscuola? Vediamo insieme le differenze in questo video soprattutto per quanto riguarda i costi. Sigla e iniziamo! Quando si avvicina il momento di conseguire la patente uno dei primi dubbi che si può avere è la faccio da solo, da privatista quindi o tramite autoscuola? Ci sono ovviamente pro e contro in entrambe le situazioni. Precisiamo prima di tutto una cosa, da privatisti ci si può preparare solamente per superare l'esame teorico ma non quello di guida visto che per poter affrontare questo esame ci saranno prima da fare le sei ore di guida obbligatoria con un istruttore abilitato, l'esame andrà poi sostenuto su un'auto dotata di doppi comandi che in pratica hanno solamente l'autoscuola e accompagnati sempre ad un istruttore abilitato. Quindi esame di teoria da privatista o tramite autoscuola esame di guida solo tramite autoscuola. L'altra cosa importante da dire riguarda il costo dell'iscrizione all'autoscuola. Questa spesa andrà infatti affrontata in ogni caso. Facendo la teoria da privatista ci sarà da pagare l'iscrizione nel momento in cui ci si iscrive appunto all'autoscuola per fare le guide. Facendo la teoria tramite autoscuola l'iscrizione verrà invece pagata direttamente quando si inizieranno a frequentare le lezioni di teoria e non la si dovrà pagare più ovviamente quando si passerà alle lezioni di guida. La spesa è ovviamente una delle variabili che viene presa maggiormente in considerazione quando si deve scegliere se studiare da privatisti o avvalendosi di un insegnante di autoscuola. Vediamo adesso nel dettaglio le differenze. Per conseguire la patente bisognerà in ogni caso preparare della documentazione, pagare dei bollettini pagopà, fare due certificati medici e tre fototessere per una spesa totale che possiamo quantificare attorno ai 170 euro che potrebbe però un po cambiare in base al costo dei certificati che può variare a seconda del tariffario del medico anche di qualche decina di euro. Il privatista a parte comprare il manuale su cui studiare del costo di una decina di euro per sostenere l'esame teorico non dovrà pagare nient'altro se non questa documentazione anche nel caso in cui dovesse ripetere l'esame teorico una seconda volta qualora la prima non fosse andata bene. Facendo la teoria in autoscuola ci saranno altre spese da affrontare. Solitamente viene presentato un pacchetto che ha un costo che può variare da autoscuola ad autoscuola. Quantifichiamolo attorno ai 500 euro. Questo pacchetto comprende l'iscrizione all'autoscuola come già detto poco fa che quantifichiamo attorno ai 200 euro. Il corso teorico, il manuale e il primo esame di teoria quantificabile quindi attorno ai 300 euro. Se superiamo l'esame al primo tentativo non ci saranno altre spese per quanto riguarda la teoria. Nel caso in cui non si dovesse superare l'esame teorico al primo tentativo e lo si dovesse quindi ripetere bisognerà pagare l'assistenza al secondo esame quantificando la spesa attorno ai 150 euro. Tirando le somme la teoria da privatista costerà circa 170 euro ovvero il solo costo della documentazione. Tramite autoscuola si avrà un totale che può andare dai 670 agli 820 euro a seconda del numero di esami da affrontare. Passiamo adesso alle guide. Il privatista dovrà come già detto fare il passaggio all'autoscuola pagando la relativa iscrizione quantificabile sempre attorno ai 200 euro. Chi era già iscritto all'autoscuola per il corso teorico non dovrà ovviamente ripagare questa cifra. Ci saranno poi da pagare le guide con un costo che anche in questo caso può variare da autoscuola ad autoscuola e che per comodità quantifichiamo in 50 euro all'ora. Ci saranno da svolgere le 6 ore di guida obbligatoria più ovviamente qualcun'altra per il perfezionamento della guida, per le manovre da affrontare durante la seconda fase e per la preparazione anche alla prima fase dell'esame. Il numero di ore di guida necessario per arrivare preparate all'esame è davvero molto soggettivo. In questo caso facciamo i conti con 10 ore di guida ma ripeto potrebbero essere forse un po' di meno ma anche molte di più a seconda della persona. 10 ore di guida hanno un costo di 500 euro. Ci sarà poi da pagare il costo dell'esame di guida anche in questo caso diverso da autoscuola ad autoscuola e che noi quantifichiamo in 130 euro. Facendo i totali dalla parte pratica il privatista spenderà circa 830 euro mentre chi era già iscritto all'autoscuola per la teoria spenderà circa 630 euro. Tirando le somme finali per chi decide di prepararsi all'esame teorico da privatista la patente avrà poi un costo totale che si aggirerà attorno ai 1000 euro. Per chi si iscriverà in autoscuola fin dall'inizio e quindi anche per lezioni teoriche il costo si aggirerà attorno ai 1300 euro sempre che si riescono a superare entrambi gli esami al primo tentativo. Attenzione che le cifre che ho dato possono variare da autoscuola ad autoscuola o anche semplicemente essere presentate in modo diverso da come l'ho descritto io in questo video per poi però arrivare comunque ad un totale simile a quello che ho appena indicato. volendo prepararsi all'esame teorico da privatista ci sarà sicuramente un bel risparmio ma ci si dovrà ovviamente preparare da soli tutta la documentazione e organizzarsi con lo studio cercando di arrangiarsi meglio che si può con quegli argomenti un po' più impegnativi come ad esempio le forme di responsabilità oppure l'assicurazione i provvedimenti sulla patente e diversi altri. Appoggiandosi fin dall'inizio ad un'autoscuola si spenderà un po' di più ma si verrà aiutati nel fare tutta la documentazione necessaria e ci sarà un insegnante che spiegherà tutti in modo comprensibile e sarà sempre disponibile per chiarire eventuali dubbi e con cui si deciderà insieme quando è arrivato il momento giusto per affrontare l'esame. Pro e contro quindi sia decidendo di iniziare il percorso per il conseguimento della patente da privatista che tramite autoscuola. Spero con questo video di avervi chiarito un po' le idee e fare così la scelta migliore per voi. Scrivetemi nei commenti qui sotto se deciderete di prepararvi all'esame teorico da privatista oppure tramite autoscuola. Finisce qui anche questo video noi ci rivediamo presto con il prossimo sempre qui sul canale guidare oggi con Andrea